e oggi è venuto a trovarmi una rappresentante del teatro nazionale dei burattini ferraio che è un pezzo di storia tra l'altro come ho ricordato che è molto presente nella mia città natale che è salerno ed ha origini nella mia città la mia seconda città che napoli sono stato consigliere comunale deputato eletto però la cosa bella è che mi hanno portato in omaggio due piccolini questi qua burattini di due maschere storiche napoletane una molto antica pulcinella e un'altra molto più nuova che quella di totò ma perché è importante questo perché questo è un altro pezzo di tradizione e di artigianato questo è diventato poiché sono ormai alla sesta generazione il più antico teatro dei burattini d'europa e in realtà rappresentano una cosa molto gradita ai bambini in particolare ma non solo è una serie di rappresentazioni di storie napoletane e non con la passione per l'artigianalità poiché anche il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano ricordiamo è un riconoscimento che ho lavorato per averlo coinvolgendo due milioni e centomila persone che hanno firmato in cento paesi del mondo siamo riusciti a vincere abbiamo fatto riconoscere che la il prodotto più diffuso del pianeta più conosciuto al mondo che la pizza era nato sotto il vesuvio a napoli bene è giusto ricordare le tante altre tradizioni che trovano un'origine napoletana e campana i burattini ma i pastori di san gregorio al romeno ma il bel canto e l'opera lirica ero ieri al san carlo il più antico teatro lirico del mondo la canzone napoletana stessa e molte altre caratteristiche delle nostre zone quindi è importante sempre più sviluppare e valorizzare queste cose quando abbiamo opportunità per esempio di realizzare delle manifestazioni delle iniziative perché non mettere in scena alcune cose con questi burattini e magari anche con immagini nuove perché questo si può innovare si può diffondere quindi ben vengano tutti come dire i cartoni animati giapponesi o tutte le cose che ci fanno par ci fanno stare nel mondo globale ma noi dobbiamo riprendere la capacità di una manualità io oggi quando mi hanno regalato queste due cose questi due pupazzi che sono però burattini in realtà sono diversi dai pupi siciliani sono diversi dalle marionette perché perché le marionette si tirano con i fili sopra e queste invece le puoi attivare con le tue mani quindi un omaggio all'artigianato della nostra nazione perché l'artigianato è una grande tradizione italiana in tutti i settori anche nei settori industriali noi abbiamo una caratteristica artigianale perfino le grandi auto in italia è un paese che fa le auto poi insomma la tradizione che ti porta alla ferrara è una tradizione sostanzialmente artigianale proiettata nell'industria il design italiano abbiamo partecipato e ho sostenuto la giornata del design italiano nel mondo il design italiano è noto perché perché ha una caratteristica artigianale cioè ci metti non tanto la catena di montaggio quando quanto un qualcosa di tuo di particolare di e la stessa cosa la pizza la pizza è un prodotto diffusissimo ma la pizza secondo l'arte piso napoletano viene stesa una per una e viene messa al forno una per una quindi ognuna e microscopicamente diversa dall'altra perché è un prodotto artigianale e non fatto in catena di montaggio ecco anche diffondere la cultura dei burattini e riconoscere questa grande tradizione che ha 150 anni di storia è un modo per essere vicini alla bellezza della nostra italia grazie a tutti